Dopo due vittorie di fila, la Infodrive Capodorlando è attesa alla delicata trasferta di Casale Monferrato, reduce da sei successi consecutivi. La squadra di coach Marco Cardani vuole comunque confermare il buon momento di forma contro un avversario davvero ostico. Andiamo a giocare su un campo difficile, contro una squadra solidissima, che nelle ultime sei giornate ha solo vinto. Ha dei giocatori a roster estremamente esperti, Martinoni, Peppe e Formenti stanno inquadrando il gruppo in maniera importante, si vede la loro solidità, la loro capacità di gestire i possessi decisivi, tant'è che nell'ultimo quarto spesso hanno fatto la differenza. Sono ottimamente allenati perché sanno sempre dove andare, sanno sempre da chi andare nei momenti decisivi degli incontri e hanno tanti giocatori che sono lì da tempo o che comunque hanno legami forti con il club, con la città e si vede che giocano non soltanto bene insieme ma anche con uno spirito di appartenenza importante. L'Orlandino dovrà mettere in campo le sue caratteristiche migliori, quindi sicuramente il gioco a tutto campo, attacco e difesa, la capacità di mettere più energia degli avversari, di avere un atletismo superiore, di avere un contributo da parte di tutti che è sicuramente stata una delle nostre qualità principali nelle ultime due vittorie e quindi giocando al nostro ritmo, mettendo in campo la nostra energia, competere contro una squadra più esperta, contro una squadra più abituata a giocare a metà campo, ad eseguire e alzare la testa al quarantesimo minuto e vedere qual è il risultato dopo la nostra prestazione.